allora buongiorno ah Danilo l'oragare è finita dai andiamo rientra un attimo solo vabbè allora oggi invece dalla barzelletta voglio rispondere ai commenti di chi scrive perché c'è il filo spinato di dietro che sei una guardia che stai a guantanamo allora il filo spinato di dietro ce sta e non ve lo posso dire ancora è presto ciao